come dettare messaggi su whatsapp ebbene in questo semplice tutorial di oggi spiegherò pubblicamente come messare come dettare messaggi su whatsapp in chat singola come dettare messaggi in generale su whatsapp in maniera molto tranquilla e quindi serena ecco è molto semplice basta andare infatti a aprire una nuova finestra di chat come ho fatto ora guardate come ho fatto faccio clicco prima di tutto qua scusate ma devo ovviamente ecco e adesso non faccio altro che andare su la mia finestra di chat e adesso non faccio altro dopo aver aperto la finestra di chat con questa persona qua che tenere premuto il pulsante in questione e poi parlare adesso io ho vede concretamente come fare 123 via prova 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 sto provando a vedere se funziona questo telefono o meglio questo dettato vediamo se funziona oppure no ciao da leandro eccomi qua vediamo se funziona avete visto ripeto tengo premuto il pulsante già sta partendo nella registrazione e sto parlando ad altavoce detto io ho detto su whatsapp nei gruppi eccetera eccetera ma anche in chat privata singola ed è che risultato avete visto vi ringrazio per l'ascolto utente di youtube ricapitolando basta tenere premuto il pulsante in questione dell'altoparlante parlare può rilasciare grazie al prossimo video